Ben tornati regà, qua è Savix che vi parla Allora ragazzi, oggi vi porto come usare il Magic Slot regà Come da promesso, l'altro giorno vi ho portato come farlo Oggi vi porto come usarlo Requisiti regà, base operativa piena di veicoli Un veicolo per baggarci, un amico che ci dà una mano Garage dell'attico di lusso con un veicolo qualsiasi E il veicolo da cui vogliamo prendere le modifiche A questo punto ci servirà il com ragazzi Con all'interno il nostro Magic Slot Se non l'avete, guardate il video, vi lascio in descrizione per farlo Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi perché il 30% di voi Non è iscritto e guarda i video, siete delle cacchette Quindi possiamo partire con il glitch, ma prima sigla Se ti serve un account moddato, ti servono aggiunte su Xbox O vuoi dei completi moddati, non esitare a contattarmi Iscriviti a tutti i miei gruppi Telegram, Next Gen e All Gen E se siete giocatori di Playstation, trovate in descrizione gruppi anche per Playstation ragazzi Iscrivetevi a tutti i miei social e attivate la campanellina del mio canale YouTube E adesso al nuovo video Quindi raga, come con la duplicazione il glitch consiste che noi andiamo dentro la base E in questa schermata il nostro amico dovrà mettersi nello switch di Franklin Come vi sto facendo vedere Quindi facciamo salire il nostro amico sulla moto Andiamo dentro la base che sarà piena quindi in questo messaggio d'avvertenza Il nostro amico si mette nello switch di Franklin Dopo che noi facciamo B o cerchio se giocate da play A questo punto ci allontaniamo Scendiamo dal veicolo E mandiamo al deposito il veicolo A questo punto il nostro amico può fare B o cerchio E scendere dal veicolo A questo punto il veicolo ti spawnerà E il nostro amico si sarà bugato nella maniera corretta Quindi raga, adesso ci chiamiamo un qualsiasi veicolo E andiamo al casino raga Una volta raga che siamo arrivati al casino E ci siamo chiamati il centro operativo mobile Ragazzi fondamentale richiederlo prima Andiamo a richiederci il nostro magic slot Che sta all'interno del com Mi raccomando se lo avete da un'altra parte Spostatelo e mettetelo nel com Quindi una volta che avete chiamato il com E vi siete richiamati il vostro magic slot Dai servizi Le chiedi il veicolo personale del com Ragazzi possiamo dirgli al nostro amico Di salirci sopra Una volta che il nostro amico è salito Sul veicolo che è il magic slot Raga, semplicemente lo mandiamo al deposito Vedrete che lui rimane all'interno Ragazzi se qualcuno vuole spostare il magic slot da veicolo in veicolo Ci sono vari modi Uno dei più semplici è comprare sopra il veicolo che possiede il magic slot Un'altra macchina Quella macchina sarà il magic slot Oppure ragazzi fate la duplicazione e sacrificate il magic slot E la macchina duplicata diventerà la macchina col magic slot Comunque ragazzi a questo punto niente di più facile come con la duplicazione Prendiamo il veicolo che vogliamo in questo caso duplicare E lo mettiamo nel solito posto nell'angolo vicino alla serranda Dopodiché prendiamo il secondo veicolo e lo andiamo a mettere in modo tale da coprire la portiera E teletrasportarci all'interno quando schiaccieremo triangolo o Y se giochiamo da Xbox Quindi una volta preso il veicolo e messo tutto a posto Ragazzi se volete potete fare il test schiacciando triangolo o Y se vi teletrasporta A questo punto Y e subito dopo A praticamente una frazione di secondo Se giochiamo da Xbox Oppure triangolo e subito dopo X praticamente quasi assieme ragazzi Se giocate da play e uscirete con il veicolo duplicato A questo punto ascoltatemi bene dobbiamo sacrificare il nostro magic slot Ma non lo perdiamo noi facendo questo lo spostiamo ragazzi Perché il magic slot diventerà la macchina che andremo a fare Che è la prima Quindi a questo punto andiamo su servizi Andiamo sul com e richiediamo il veicolo personale del com Cioè il nostro magic slot e vedrete che ce lo fa fare A questo punto i soliti 10 secondi Dopodichè vi diciamo al nostro amico di scendere E a questo punto avremmo duplicato la macchina e sacrificato il magic slot in teoria Adesso regà dobbiamo fare una cosa Dobbiamo entrare nel com per salvare il veicolo E appena entriamo dobbiamo far crashare GTA O staccando il cavo o aprendo YouTube ragazzi Oppure staccando dalle impostazioni il wifi Come preferite voi io staccherò il cavo che mi trovo meglio Quindi entro dentro freccia destra E appena sono visibile nel com ragazzi Stacco internet Stacco il cavo Mi darà questa allerta regà di rete Noi l'accettiamo e andremo in storia Quindi a questo punto non ci resta altro che farci rinvitare in lobby Da il nostro amico Oppure una volta che siete in storia Regà me ne andate in una sessione inviti Ad amici dove volete E' indifferente Io taglierò questa parte per velocizzarvi il video ragazzi Eccoci qua di nuovo online ragazzi Come potete vedere La foto ha preso tutte le modifiche che porta il magic slot Quindi avrà preso la targa Avrà preso i vetri ragazzi Avrà preso il fumo Avrà preso il colore dei cerchi ragazzi Praticamente noi col magic slot non passiamo colore ruote così Il magic slot flippa i cerchi Cioè se hai un cerchio bianco di Benny ragazzi Potete farlo diventare un altro tipo di cerchio sempre bianco di Benny Se avete una ruota F1 Cambiate lo stile del cerchio della ruota F1 Semplicemente così Quindi a seconda di che macchina sacrificate Passerete le modifiche Passerà anche gli interni ragazzi E vi voglio ricordare Che per salvare l'auto Dovete passarla a un vostro amico Con un car to car Perché a quel punto Una volta che chiuderete il gioco Questo veicolo tornerà originale Perché il magic slot funziona così E questo qua è il magic slot Come usarlo Io spero che i miei video vi piacciono Lasciate un like Lasciate un commento Supportate Exavix ragazzi Condividete i miei video E lasciate un like Bella raga Alla prossima